Era una grande prestazione per un risultato che la Roma ha cercato fortemente a chi ha fortemente meritato. Sì, credo che nei due incontri siamo stati la squadra che ha avuto più voglia di arrivare in finale. Oggi l'abbiamo dimostrato lottando su ogni pallone in un modo incredibile, credo. Ogni compagno ha dato il massimo e è proprio questa la forza del nostro gruppo. Credo che questa partita sia l'emblema proprio di questo gruppo. Tu di questo gruppo ormai sei diventato un parte integrante, sei cresciuto tantissimo, sei guadagnato la fiducia del mister, dei tuoi compagni. Quanto pensi di essere cresciuto? Cosa è successo? Cosa fanno? Sì, sono cresciuto tantissimo. Poi più giochi, più acquisti di fiducia sia da parte tua che i tuoi compagni hanno più fiducia in te. Quindi li posso solo ringraziare per questo e ringraziare il mister per le possibilità che mi sta dando. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Grazie a te. A una volta.